La polizia tunisina ha aperto il fuoco su un gruppo di manifestanti, uccidendone almeno due. L'episodio è avvenuto nel nord del paese, in località El Kef, teatro della manifestazione con centinaia di persone e un commissariato. Gli intervenuti hanno lanciato pietre e bombe Molotov, protestavano contro il capo della polizia locale, accusato di abusi. L'uomo sarebbe stato poi arrestato. Nel paese è alta la diffidenza verso le forze dell'ordine. Sabato quattro altri agenti sono stati arrestati al centro della Tunisia, sospettati della morte di due giovani fermati in precedenza.